Provo una grande emozione, ho molta voglia di vivere questo sogno che finalmente è diventato realtà. Ho voglia di sfruttare questo momento bellissimo e inaspettato, uno di quei momenti che è soltanto il calcio che può fare. Che cosa conosci del campionato italiano? Conosco le squadre che conoscono tutti. Del campionato italiano conosco la Juve, l'Inter e il Milan, le tre grandi squadre italiane, tra le cinque più importanti nel mondo. Quindi sono molto orgoglioso di essere qui alla Juventus, ma adesso tocca soltanto a me dimostrare perché sono alla Juve. Che cosa conosci della Juve e dei suoi giocatori? So che la Juve ha vinto molto, sia a livello nazionale che internazionale. Possiede grandi giocatori che hanno vinto la Champions League e i mondiali. È una squadra che ha avuto un percorso impressionante. Quello che io devo fare è cercare di sfruttare questo momento, vivendo giorno per giorno e imparando nei miei compagni, in modo da continuare a crescere come calciatore e come uomo. L'esperienza dell'Argentina è stata utile? Sì, è stato fantastico. Nell'ultimo campionato ho giocato praticamente tutti gli incontri, sia nazionali che internazionali. Mi ha fatto molto piacere. Adesso devo dimostrare il perché giocavo in Argentina e nella Coppa America. Ho fatto bene, ho giocato tutte le gare e adesso devo dimostrare che con la Juve posso vivere un momento importante. E nella Coppa America è dimostrato di essere uno dei giocatori più in forma del torneo, anche nella partita con il Brasile. Sì, è vero. Fortunatamente la Coppa America è andata abbastanza bene. Siamo arrivati in finale e non è una cosa che capita abitualmente. Abbiamo perso, ma abbiamo mantenuto alto il nome del Paraguay. Credo che anche grazie a questo risultato si sia realizzato il mio sogno di venire alla Juve, grazie ai miei sacrifici, ma anche grazie al fatto di essere stato in forma durante la Coppa America. Che tipo di giocatore sei? Sono un giocatore aggressivo. Cerco sempre di muovermi in avanti, lotto su ogni pallone, cercando di approfittare di ogni occasione. Non mi mancano mai forza e voto. Sono detto che la gana e l'esforzo non è mai falta. Un saluto ai tifosi del Juve. Un gran saluto a loro. Saluto tutti e voglio dire ai tifosi che darò tutto me stesso, non soltanto a parole, ma sul campo dimostrerò le mie qualità e il motivo per cui sono stato scelto dalla Juventus. Presentato solo a me persona. Presentato solo a me persona.